L'ordine del giorno della riunione di oggi recca due problemi molto importanti. Il primo è una relazione sulla recente incontro... La giunta è l'organo di governo della regione. Quella dell'Emilia Romagna è presieduta da Guido Fanti. Solamente così potrà essere assicurato quel necessario sostegno al programma regionale di interventi e all'impostazione che abbiamo dato al bilancio regionale nostro e alle prospettive generali secondo le quali occorre impegnare una programmazione regionale nazionale volta al riequilibrio e quindi a un nuovo tipo di sviluppo del Paese. In questo ambito trova conferma l'obiettivo che ci siamo dati di riequilibrare il bacino padano che postula un ruolo nazionale non solo della nostra regione, dell'Emilia Romagna, ma delle regioni padane. Su questa politica del riequilibrio del bacino padano sono fondati del resto i nostri progetti di intervento, quelli che qualificano il bilancio regionale per il 1975. Sono i progetti dell'agricoltura, dei trasporti, dell'edilizia e a questo proposito desidero informare che proprio oggi in accordo con il Consorzio regionale degli istituti autonomi delle case popolari abbiamo deciso la convocazione di una conferenza nazionale sulla casa che si terrà nelle prossime settimane proprio per riuscire a portare a un livello nazionale le proposte e le iniziative che sono necessarie per affrontare questo problema.